A che tardi mi pare? Arrivavo la ciascina una carruzza che aveva essere belgamasca, bresciana, di questi spetti paesi del noto e da sopra che l'aveva portato da un amico me, da un giugallo vivo. Mi fai sentire la segreteria, mi fai sentire il messaggio, nemmica, ha cominciato a cazzolare con tutte queste coppie di nemmica, fammi qua, fammi sottoscritto che è un galantuomo, è uno praticamente che l'educazione si sta moccando tutto, si sta soccando l'educazione, arrivato al punto che ha visto tutto fare, con tutte coppie di nemmica, fai vedere e fai sentire, cazzo. Non ci pote scafazzare la testa con una saturata, non ci pote completamente sfogare un mitico con un coppo di mattettina bello sisteato, non ci pote rascarupire la cattavessata numero 5, non ci pote dare una bella perata non mi dico ammazzarla e allevarci completamente cutetta, ma che va a fare? Intanto, arrivato a sto punto, cazzo lunedì in quattro di notte, su cammini tecate, vallai allassare il messaggio, potevo stare senza messaggio, non posso fare, qualche cosa da lei a dire, ma intanto non è una cosa cammini nella mente, mare, quando un congiuna di chi si sente, fai sentire, fai vedere, a miscaccino con una subito, non da faccia, senza sapere niente, così, da coppa a coppa, ci rimesco con la faccia, ci fa cascata in qualsiasi anche per farci cacciare, e a sottere sotto una montagna di merda, mare! Occhio quando ci suscitivi! Ciao, bello, ciao!